Un incontro tenutosi a Ciriè ha presentato e rilanciato l'attività dello sportello di pubblica tutela, un servizio organizzato dalla città metropolitana di Torino in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. L'ufficio di pubblica tutela nasce per supportare i tutori e gli amministratori di sostegno, che sono praticamente le figure che rappresentano il disabile, l'anziano cronico, il malato psichiatrico, nell'esercizio dei propri diritti e delle attività che per legge devono essere gestite in rapporto con il giudice tutelare che vigila, controlla, nomina il tutore e l'amministratore di sostegno e autorizza gli atti previsti dalla legge o dal decreto di nomina. Lo sportello, come quelli di Chivasso, Susa e Torino, offrono gratuitamente consulenza sui temi della pubblica tutela e dell'amministrazione di sostegno, strumenti giuridici per aiutare e proteggere le persone fragili, non in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità. In particolare, gli sportelli di Chivasso e Cirie, dopo la chiusura dei tribunali distaccati e il trasferimento di queste zone sotto la competenza del Tribunale di Ivrea, offrono consulenza gratuita per capire come istruire le pratiche, per stabilire e mantenere i rapporti con il giudice tutelare del Tribunale di Ivrea in una logica di prossimità per il territorio. Il territorio di Ivrea è un territorio che si caratterizza per avere un grandissimo numero di soggetti, chiamiamolo il soggetto di Ibole, di famiglie in cui è presente una persona che necessita di assistenza. È un territorio estremamente vasto e l'esistenza di sportelli decentrati qui a Cirie come a Chivasso indubbiamente per un verso aiuta, aiuta in modo determinante le famiglie già pesantemente colpite dalla situazione che le caratterizza, aiuta le famiglie ad avere un canale facilitatorio rispetto alle varie stanze e quindi poi rispetto al Tribunale. Cirie come Chivasso poi sono territori accorpati al Tribunale di Ivrea e voi capite che diventa estremamente scomodo per questi territori essere prontamente collegati con la sede del Tribunale così decentrata. E quindi era importante avere un po' di sensibilità istituendo degli sportelli in qualche modo che fossero presenti sul territorio a raccogliere le domande di servizio che venivano richieste dall'utenza della pubblica tutela. È una consulenza utile a chi è già tutore o amministratore di sostegno ma anche ai cittadini che hanno bisogno, molto spesso con urgenza, di questi strumenti di sostegno alle persone fragili. Gli sportelli si trovano presso i centri per l'impiego, a Chivasso in lungo piazza d'armi 6 e a Cirie in via Banna 14. Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 011 861 21 47 oppure 861 21 46 o scrivere a pubblica tutela chiocciola città metropolitana.